Non è utile? Non ti apri. Ok. Quindi attiviamo. Un attimo. Piggio sul telefono. Sì. Sirena, buongiorno. Abbiamo bisogno del suo aiuto. Un secondo? Sì, ditemi. Avrei bisogno? Un certificato elettorale, una tessera elettorale. Allora, sì, ci siamo. Per una tessera elettorale... Per una tessera elettorale nuova mi deve depositare una denuncia di smarrimento o richiesta di rinnovo della stessa tessera. C'è da compilare un modulo che dopo 15 giorni viene rilasciata qui da me. Tra 15 giorni può venire a ritirare la nuova tessera elettorale. D'accordo, cammino. Bene, la ritrazio. Ok, grazie a lei. Arrivederci. Grazie.